Allora, ho fatto due allenamenti, ritmo altissimo, ho trovato diverso rispetto a quello a cui ero abituato, che si usa molto di più il pallone, c'è una ricerca del gioco, palla bassa, giocare, girare, ritmi veramente alti, quindi sono contento di essere qua, avevo bisogno di giocare perché non ho trovato abbastanza minutaggio a Piacenza e quindi mi sono un po' allontanato da casa ma sono molto contento. Allora, i primi anni sono stato molto più fermo, ho fatto tre anni a Salò e poi subito dopo ne ho fatti tre a Trieste. Più che altro negli ultimi anni ho deciso più che magari fermarmi, proprio di ricercare il minutaggio, di ricercare, insomma, di giocare il più possibile. Purtroppo non sono riuscito a trovare una costanza nelle squadre, soprattutto anche nell'ultimo caso, Piacenza, dove purtroppo sono partito titolare ma poi mi sono trovato alla decima giornata, poco dopo, a non fare più un minuto e quindi ho dovuto per forza fare un cambio. No, allora, Mister Guidi non lo conoscevo di persona, l'avevo affrontato contro, però mi aveva già cercato in un paio di occasioni, mi ricordo l'anno scorso, quindi diciamo che comunque avevo sentito il professor Melino che mi aveva chiamato, mi aveva detto dell'interesse anche negli anni scorsi. Quindi sì, non lo conoscevo di persona, ma diciamo che c'era già, era scritto che prima o poi dovessi farmi allenare dal mister. No, ho già detto che comunque ho giocato in entrambe le difese, proprio penso di aver diviso i miei anni di carriera tra tre e quattro, ho fatto probabilmente più a quattro, però negli ultimi due anni ho fatto più a tre. Allora, secondo me, io ho visto della qualità, ci sono delle idee forti e io l'anno scorso ho fatto una retrocessione, ho fatto una retrocessione e direi anche a pelo perché comunque è il play-out, non una retrocessione diretta. E io penso, posso dire, posso affermare che quest'anno la squadra non è quella con cui, cioè è una squadra, non dico che da play-off o cose, perché l'importante è salvarsi in questo momento. Non è il problema. Non è, assolutamente. È una buona squadra. Da quello che ho visto in due giorni è una buona squadra. E soprattutto ci sono delle idee forti che mi sembra proprio che vengano ricercate fino alla fine. Quindi penso che ci siano dei buoni margini di miglioramento anche con dei nuovi innesti e possiamo far bene.